L'oggetto del mese che vi vorrei presentare è una testa in stucco dorato raffigurante il Buddha. L'opera che si trova attualmente in uno dei depositi del Museo delle Civiltà è stato oggetto di un intervento di restauro nel corso della mostra Antico Siam, lo splendore dei regni Thai, che si è svolta dal 18 maggio al 30 aprile del 2019. L'importante mostra che ha visto l'esposizione di oltre 500 pezzi ha celebrato il 150esimo anniversario del Trattato di Amicizia e Commercio tra l'Italia e la Thailandia, il cui documento originale è stato qui eccezionalmente esposto. La testa, tra le più antiche presenti nell'esposizione, è stata posta nella sezione seconda dedicata all'arte classica dei regni Thai che va dal 1300 al 1782. L'ovale della testa color avorio è posta su una piccola base in marmo sostenuta da un perno metallico, un sortile e articolato gioco di linee che parte dalle arcate sopraccigliari e culmina in un lieve sorriso dalle labbra rosse. Le orecchie in parte rotte hanno lobby allungati, quale antico segno della rinuncia alla vita mondana. Un piccolo nastro superiore separa la fronte dai riccioli blu sormontati in alto da un basso rilievo detto usniscia. Sempre in alto possiamo vedere che la testa aveva un ulteriore elemento a fiamma detto rajmi. Sul collo sono riconoscibili le tre linee quale segno di bellezza, fortuna e prosperità. La testa doveva appartenere molto probabilmente ad una statua di grandezza naturale, stante o assisa. Ad una prima analisi lo stucco è stato molto probabilmente composto da elementi in mattone crudo, composto da polveri quarzose ricoperte via via da strati successivi. Una miscela liquida dunque applicata con strati successivi con andamenti curvilinei di cui possiamo riconoscere le striature. Questi strati potrebbero essere stati composti da gesso o riso con colle vegetali, materiali dunque utilizzati proprio per consentire una miglior adesione di uno strato all'altro. La capigliatura a riccioli blu è stata eseguita a stampo, una tecnica tipica thailandese che consentiva di essere utilizzata soprattutto per questi particolari e per i gioielli. Uno strato color marrone, in buona parte caduto, aveva ricoperto l'intero volto. L'intervento è consistito in una lieve del polveratura con piccoli pennelli di martora seguita dalla rimozione dello strato marrone che aveva ricoperto e predominato sulle linee chiare del viso e del volto del Buddha. I saggi di pulitura sono stati eseguiti con prodotti a soluzioni gelificate. L'utilizzo del gel mi ha consentito di poter aderire, di far aderire perfettamente la soluzione sulla pronunciata capigliatura ed avere un perfetto controllo dell'azione solvente. L'operazione è stata così eseguita con il Van Zan, miscelato all'1% con un sale bisodico e tenuto per il tempo di contatto di qualche minuto e rimosso a tampone. Il Van Zan è composto dalla gomma Xantano che è un prodotto per uso alimentare miscelato ad acqua, che miscelato ad acqua forma un gel denso e assolutamente trasparente. Tolto lo strato marrone sul collo è emerso un importante inserto in cemento. Il difficile raccordo mimetico tra il cemento e il volto color avorio è stato risolto rivolgendosi alla tecnica del tratteggio, un sistema a selezione cromatica ideato e definito da Cesare Brandi nella sua teoria del restauro nel lontano 1963. Si tratta di sottili linee verticali parallele eseguite ad acquarello che hanno permesso il riconoscimento ravvicinato della parte integrata e la sua perfetta mimesi a distanza. Sono Alessandra Montedoro, funzionario restauratore del Museo delle Civiltà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.